Ciao a tutte ragazze, vi faccio spiegare dalla Marti che è molto più brava di me che cosa stiamo andando a fare. Stiamo facendo un'elettroporazione per andare a veicolare in profondità l'acido ialuronico, quindi le molecole proprio di acido ialuronico di acqua, andiamo a veicolarle bene in profondità e quindi avremo un effetto riempitivo e rimpolpante immediato. Poi tra l'altro è completamente indolore. Adesso invece con la Marti andiamo ad applicare questi patch liftanti che potete comprare anche sul loro sito. Esatto, perché sono anche sul loro sito. Adesso vi facciamo vedere come li applichiamo sul contorno occhi che contengono del mirtillo e dell'edra biologica e sono fantastici, vedrete come drenano immediatamente l'occhio. Ma loro hanno un sacco di provati sul sito, andate a vedere perché di tutto vendono. E io li ho provati, funzionano tutti. Allora, ecco qui, secondo step. Andiamo ad applicare la maschera, che è una maschera monouzo, ha un effetto irritante e antiossidante. E andiamo ad applicarla su tutto il viso, lasciando sotto i patch che continuano a lavorare.